cooperativa agricola volpago offre carne fresca di prima qualità ci trovi a volpago del montello pieve del grappa tre baseleghe e presso lo spaccio del contadino a dolo e massanzago ben trovati al meteo primo gennaio 2024 dopo il passaggio della perturbazione di san silvestro il tempo sarà per lo più asciutto vediamo insieme in dettaglio sul veneto nuvolosità variabile più compatta a inizio giornata e sulle zone montane alternata a qualche locale schiarita soprattutto in pianura nelle ore pomeridiane temperature stazionarie minime tra 3 e 4 gradi massime tra 8 e 9 gradi all'incirca spostiamoci ora sul friuli venezia giulia al mattino avremo residui piovaschi specie sui settori più a est a seguire più asciutto ma molto nuvoloso con qualche rara parentesi soleggiata temperature minime tra 4 e 7 gradi massime sui 10 12 gradi infine diamo uno sguardo alla situazione del trentino alto adige dove sarà più presente il sole con cielo sereno o al massimo con qualche nube a carattere sparso temperature minime tra 1 e 3 gradi massime sui 9 all'incirca dal meteo di antena 3 per ora è tutto grazie per l'attenzione arrivederci cooperativa agricola volpago offre carne fresca di prima qualità ci trovi a volpago del montello pieve del grappa tre basiliche e presso lo spaccio del contadino a dolo e massanzago a canale